In questi giorni si parla qui nelle ostre acque di presenze di squali, ci sono e perché ci sono soprattutto? Sì no, gli squali innanzitutto sono dei componenti di quello che la fa una marina normali e ci dovrebbero essere quasi sempre, solo che ce ne sono di tante specie di squali, per esempio squalo volpe, quello con quella coda arcuata molto lunga, è un abitatore normale perché praticamente tutti gli anni ne vengono pescati 10, 12, 15 secondo con i vari sistemi, anche l'altro ieri ne hanno preso uno, quindi è frequente. Quello che è lo squalo bianco, che è uno squalo forse di maggiori dimensioni, il più grosso, il più temuto, quello che ha la fama di essere il più cattivo, è un grande predatore che però segue le sue prede e quindi dove vanno le prede va anche lui, quindi siccome la sua preda preferita sono i tonni e quindi lui segue quelli che sono i gruppi e i branchi di tonni che negli ultimi anni sono molto abbondanti, un po' in tutto il Mediterraneo ma in particolare anche qui in Adriatico, dove sono venuti a banchettare i tonni mangiandosi sgombri, suri, pesce azzurro, sardini, tutto quello che trovano. Quindi essendoci i tonni presenti in abbondanza è anche normale che il predatore dei tonni ci venga e si trovi a suo agio mangiandosi un tonno ogni tanto. Quindi se è stato visto non è una cosa così anomala, la sua presenza potrebbe essere assolutamente possibile. È possibile, è normale dire, fa parte della natura, sarebbe come se uno dicesse ho visto un lupo e dico vabbè il lupo fa parte del suo ambiente che c'è, se uno ne vede uno tutti i giorni forse sono troppi ma di vederne uno ogni tanto, soprattutto noi siamo in una zona un po' marginale per questi pesci che vivono in acque più profonde, in acque in mare aperto eccetera. Se viene in adriatico è perché ha trovato questa ricchezza particolare in questo periodo di tonni e quindi viene e se lo mangia con notevole facilità e lui ha degli scatti molto veloci, riesce anche a prendere anche dei tonni i quali cercano di scappare ma essendoci in umbranco trova sempre il più debole, quello che corre meno sviluppo degli altri lo acchiappa.